Professore, parlare di ortopedia pediatrica oggi nella nostra terra è importante e soprattutto tenere conto che il centro qui al Marrelli è l'unico punto di riferimento per noi calabresi. Beh direi che quello che dice lei è veramente realistico e reale. Il Marrelli sia come struttura quindi per le camere, le facilities, infermieri dedicate, sale operatorie dedicate, anestesisti dedicate è un centro diciamo proprio di riferimento per l'ortopedia pediatrica non tanto perché ci lavoro io ma perché ha tutto quello che per i bambini serve. che sono di fatto le sovrastrutture più importanti che non la chirurgia stessa. Sono tanti i casi in cui lei deve intervenire qua in Calabria e qui al Marrelli per bambini? Beh diciamo che ogni volta che io vengo qua visito 70-80 bambini e ne opero 6-8-10 per cui nonostante l'ortopedia pediatrica non sia quantitativamente come l'ortopedia dell'adulto L'ortopedia pediatrica è una nicchia però in questo caso siccome questo è un centro di riferimento noi abbiamo tantissimi pazienti da operare. Quali sono le patologie più ricorrenti? Beh in ortopedia pediatrica ci sono patologie non molto gravi per cui realisticamente si riescono a risolvere con interventi in dei hospital con chirurgia mininvasiva per la quale adesso anche per i bambini si ha una grossa attenzione, piccoli tagli, dimissione rapida, terapia del dolore adeguatissima per cui i bambini di fatto non devono soffrire e qui è un posto adeguato per cui non soffrono. Altri casi invece sono casi molto più grossi come le patologie ortopediche legate a patologie neurologiche lì sono interventi molto importanti dove si cerca di fare in modo che i bambini ricuperino le potenzialità motorie che hanno perso con queste malattie. Quindi dobbiamo dire che il Marrelli Hospital può sicuramente essere un centro al passo con i tempi e soprattutto che permette interventi con le nuove tecnologie. Beh diciamo che io a Milano dirigo un centro di riferimento italiano per le patologie neuromotorie e visto che il chirurgo è sempre lo stesso e la struttura me lo permette io posso dire che qui al Marrelli mi sento come a casa mia a Milano. Quanti interventi ha fatto oggi? Oggi ho fatto 5 interventi. Tutti diciamo riconducibili a patologie già esistenti nel bambino o dovuto magari accaduto a altre cose? No, questa per adesso al Marrelli io faccio chirurgia elettiva anche perché io vengo qua non di frequentissimo per cui facciamo chirurgia dove il paziente viene preparato, fa un prericovero e non una chirurgia d'urgenza come potrebbe essere la traumatologia. Sicuramente la struttura lo permette per cui in un futuro noi potremo anche decidere di organizzarci e fare anche un punto di riferimento traumatologico per la patologia del bambino. Immagino che arrivano da tutta la Calabria? Beh diciamo che arrivano da tutto il sud Italia qua al Marrelli perché sia come centro ed essendoci io non per chi si loda si imbroda ma di fatto l'ospedale dà delle garanzie paradossalmente anche estetiche che fanno sì che il paziente venga, si trova bene, coccolato, come è giusto che sia. Vedo che lei parla così bene quindi vuol dire che si trova bene qui all'interno del Marrelli ha trovato una sede interessante, importante e soprattutto una sede in cui si può operare per bene. La fortuna è stata che è esattamente quello che dice lei e in più ho trovato anche degli affetti e delle amicizie alcuni non ci sono più come il dottore Marrelli che era veramente un amico con cui avevamo grandi progetti per cui io quando vengo qua non solo lavoro bene, non solo sono tranquillo ma mi godo anche la compagnia di amici.